Buongiorno a tutti e benvenuti, oggi ho il piacere di presentarvi il progetto Virtual Last Empire 2023. Questo progetto è stato creato con grande maestria in 3D da Exodart, prendendo ispirazione della celebre discoteca Last Empire del 2010. Questa rappresentazione virtuale offre una straordinaria fedeltà all'aspetto della struttura originale, permettendoci di rivivere l'atmosfera della discoteca come se fossimo realmente presenti. Il Last Empire era stata una delle discoteche più famose d'Europa, con una capacità di 8.000 persone e una vasta superficie interna di 7.000 metri quadrati, nonché una superficie esterna di 12.000 metri quadrati, con 7 piste da ballo e 9 bar. La discoteca era caratterizzata da una scenografia spettacolare che includeva sette fontane e due cascate, rendendo l'esperienza di ogni visitatore unica e indimenticabile. Tra le sue mura si sono esibiti numerosi DJ di fama internazionale, alcuni dei quali hanno iniziato la loro carriera qui come Gigi D'Agostino, Francesco Zappalà e Mauro Picotto. Gigi Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti